La Vastese cade in casa e perde la vetta del girone F. Il campo basso di Novelli è Corsaro all'Aragona in una partita altamente spettacolare e giocata davanti ad una bella cornice di pubblico. Padroni di casa sfortunati in apertura di gara, poi i morisani colpiscono due volte con grande cinismo, con il rigore di Sudan e il colpo di testa di Fioretti. Nella ripresa la reazione d'orgoglio dell'undici di Colavitto, ma la rasoiata di Felici non basta. Prima sconfitta per la Vastese ed ora in testa c'è da sola l'Agnonese grazie al punto colto a Iesi. Si sblocca in casa di San Nicolò che riesce a dare continuità alla blitz di Recanati e dopo il trista ai Leopardiani ne cala un altro al cospetto del Romagna Centro, una delle squadre più giovani del raggruppamento. La rete di Stivaletta apre le danze, poi due gol di pregevolissima fattura di Napolano e Bisegna, giusto per ricordare quanto talento abbia la squadra di Massimo Epifani, ora a tre punti dalla vetta. Va agli archivi con un po' di rammarico la prima di Daniele Amaulo da allenatore del Pineto. A Castelfidardo gli Adriatici prima vengono infilati da Soragna, poi impattano con Esposito. Nella ripresa l'espulsione di Bordi e il successivo rigore di Antenucci regalano al Pineto il vantaggio di un gol e di un uomo, ma le solite amnesie difensive sfociano nel pareggio di Maisto. E così l'appuntamento con la vittoria è nuovamente rinviato, anche dopo la seconda espulsione di un giocatore del Castelfidardo che chiude in nove. Se non altro la classifica viene mossa dopo quattro sconfitte consecutive. Non fa più notizia il Derli Tocchietti sul quale passeggia Il Matelica guidato dall'ex Esposito, avvio soft per il neotecnico matelicese Mecomonaco nella sua cittanatia. Nelle girone G si regala un altro sorriso l'Aquila che al fotofinish spugna Città di Castello. Il colpo di testa di Bartocini al novantunesimo permette all'undici di Massimo Morgia di dare concretezza alla superiorità espressa nel corso dei 90 minuti. Tante occasioni e tanta amore di gioco, ma anche qualche rischio. L'Aquila però risale ed ora è nel mucchio della parte alta di classifica. In due punti ci sono otto squadre. Momento no per l'Avezzano, per cui le squadre sarde continuano ad essere indigeste. Terza compagine isolana e terza sconfitta per una squadra spuntata. Non basta la rete di Menna, smarrita la solidità d'inizio stagione. Il latte dolce espugna il De Marsi 1 a 3 anche grazie alla giornata di grazia di Palmas. Per lui doppietta e una rovesciata da antologia. E per domenica i marsicani possono ancora preoccuparsi con la quarta sarda consecutiva trasferta a San Teodoro.